Grande successo per la serata delle fonti awards, tenutasi lo scorso giovedì 6 giugno a Palazzo Mezzanotte con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo Proprietà intellettuale e industriale, dal pharma al manifatturiero, crescere grazie al know-how, moderato dalla giornalista Deborah Rosciani. La serata delle fonti awards è stata interamente dedicata al mondo del pharma e del finance consulting. Boutique di eccellenza dell'anno Rapporti Italia-Medio Oriente ritira il premio Studio Legale Facchinetti. Per l'elevato grado di specializzazione acquisita negli anni nel supportare le aziende italiane che intendono investire nel mercato degli Emirati Arabi Uniti e per la trasversalità dei servizi di consulenza forniti attraverso una rete di avvocati e professionisti di riconosciuta professionalità. Fano dello studio, una boutique di eccellenza, quale punto di riferimento in materia di rapporti Italia-Medio Oriente? Complimenti! Alle fonti awards siamo in presenza di Simone Facchinetti che ringrazio per essere qui con noi al quale dedico un paio di domande. La prima innanzitutto al riconoscimento che avete ottenuto. Ecco, per il terzo anno consecutivo lo studio legale Facchinetti è stato premiato come boutique di eccellenza dell'anno nei rapporti Italia-Medio Oriente. Un risultato veramente importante, possiamo dire, in quanto premia la determinazione, la focalizzazione e la costanza proprio del vostro studio in questo mercato in crescita, se vogliamo. Allora io ti chiedo, qual è stata l'evoluzione del vostro studio e del mercato emiratino in questi tre anni? Beh, allora Simona, grazie a nome di tutto il mio studio, alle fonti per questo riconoscimento e per questo onore. Che dire, prima cosa vorrevo fare prima un saluto che è il saluto di Sheikh Mohammed, parliamo di Middle East, di Emirati Arabi, perciò questo è il saluto di Sheikh Mohammed, il suo Three Fingers Salute, che vuol dire Win, Victory and Love. Questo è un suo claim, diciamo, per far sì, per porre l'attenzione come gli Emirati al centro del mondo, proprio sulla base di un lavoro etico, di un lavoro per l'amore e un lavoro rivolto al successo anche. Come è voluto il mio studio, come è voluto il mercato degli Emirati, il mio studio è voluto in questi anni, cercando di diventare sempre più un vero e proprio hub, così come Dubai e gli Emirati Arabi stanno diventando un hub, anche io ho preso spunto, ho preso spunto da questa loro eccellenza e da questa loro visione, perciò diventare davvero un punto di connessione, di collegamento di diverse competenze, di diverse competenze rivolte tanto alle singole persone, soprattutto alle imprese e intorno a questo creare una vera e propria consulenza e assistenza alle imprese, non solamente nell'ottica dell'internazionalizzazione d'impresa, ma sulla fiscalità con l'ingresso di nuovi professionisti commercialisti specializzati in fiscalità internazionale, di figure che coprono anche il risk management, di figure che coprono anche l'aspetto più di team building e di psicologia e perciò un po' in linea col mercato emiratino che è sempre rivolto e focalizzato all'innovazione come sarà poi il tema focus di Expo 2020 a Dubai. Perciò innovazione come, innovazione come, 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 innovazione e hub come due parole guida per il mio studio. Mi hai già un po' anticipato, lo studio infatti si occupa di imprese proprio a 360 gradi in quanto offre una consulenza, offre dei servizi che vanno dalla consulenza relativa alla contrattualistica fino a quella giudiziale, quindi offre un supporto alle imprese che vogliono aprirsi verso nuovi mercati ma anche accompagna le start up durante tutta la fase della loro crescita. È corretto? Esatto, sì, è proprio corretto Simona perché cerchiamo di capire, di entrare nelle imprese, sia che siano imprese neonate, sia che siano imprese che debbano ancora nascere, sia che invece siano imprese più strutturate, cercando di gestirle nel proprio interno, capire quali sono le loro necessità, le loro criticità e da questo studiare anche quali possono essere le opportunità per loro. Perciò non solamente un lavoro, diciamo, statico e di analisi, ma bensì un lavoro dinamico di capire quali possono essere anche i fattori vincenti in più di ogni impresa e questo appunto sia da un punto di vista societario, giuslavoristico, contrattualistico, con anche una particolare attenzione negli ultimi anni alle start up, proprio questa parola che ormai negli ultimi anni è andata sicuramente sulla bocca di tutti, ma un'attenzione particolare perché ci crediamo molto, ci crediamo molto e rientra in quello che ti dicevo prima, cioè innovazione, anche perché per esempio negli Emirati Arabi ci sono dei programmi per le start up, c'è questa Dubai Future Foundation che segue queste start up, perciò è mio compito insieme anche alla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi selezionare delle start up che poi possiamo presentare negli Emirati per poter fare un percorso insieme a dei mentori negli Emirati stessi e poi quelle più meritevoli riuscire anche a farli fare una lettera di intenti, comunque un memorandum di intenti con il governo stesso emiratino, perciò è sicuramente molto interessante e da ultimo lo studio adesso edito l'ultimo libro sul contratto di sponsorizzazione, soprattutto nello sport e nello spettacolo, perciò c'è anche questa attività editoriale non solamente sulle sponsorizzazioni ma anche su tutto il tema dell'industria 4.0. Un'ultima velocissima domanda, progetti per il futuro con riferimento anche all'Expo di Dubai 2020 di cui già qualcosa mi avevi già accennato prima. Sì, Expo 2020 a Dubai è un evento unico per questo stato, è il primo Expo che viene fatto in questa area del Nord Africa, Middle East, Medio Oriente e del Sud Asia, perciò è un evento unico, un evento che ha come claim, che ha come tema la connessione delle menti e la creazione del futuro. I macro temi sono tre e sono la mobilità, le opportunità e la sostenibilità, tutto questo legato dal tema dell'innovazione, perciò per me è un po' nel mio DNA, mi appare un po' naturale cercare, ricercare, far scouting di aziende, cercare di entrare tutte le aziende che vogliono cercare di inserirsi in questo mercato, Expo 2020 che inizierà fino a ottobre del 2020, perciò abbiamo ancora più di un anno e perciò questo è il momento giusto perché le aziende possano iniziare a inserirsi, a facciarsi in questo mercato in modo tale che si ha un po' di tempo per poi prendere, prendere davvero, abbracciare, abbracciare questo evento e cercare così di avere successo, anche perché questo Expo 2020 Dubai è un evento che porterà negli Emirati Arabi 25 milioni di persone, di cui 17 milioni e mezzo straniere e perciò un evento dà una portata davvero unica e da ultimo ti dico come il Padiglione Italia, siccome l'Italia è stato il primo paese ad aderire a Expo Dubai, il Padiglione Italia, il claim del Padiglione Italia è la bellezza unisce le persone, bellezza unisce le persone, bellezza intesa non solamente come fashion, design, architettura, tutto ciò che noi in Italia siamo i top, ma bellezza anche come risorsa strategica, perciò come le aziende possano utilizzare la bellezza come strategia per arrivare ad avere successo nel business e nel cuore dei consumatori e della gente.